Rea Land guidava Voletaria con i cavalieri della tavola rotonda. Le nobili zanne gemelle, Valarfar, Sebiorn, Alfred, il cavaliere della torre, Metas, il trapassatore, e il prodecapo trebu Ulan Alcolungo, con le sue bellicose legioni. Ma oggi Voletaria è in uno stato pietuoso. Perdemo Valarfar, Ebiorn scomparve nella finitura. Non avemmo più notizie di lui. Tutti gli altri, e Voletaria stessa, furono divorati dalla nebbia, o caddero preda dei demoni. I cavalieri di Voletaria non esistono più, ma forse la nostra epoca metrà a sorgere nuovi eroi, come voi. Ehi! Grazie a tutti. 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 Fa bene concedere. Grazie a tutti. 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 e... a tutti.